Ciao, come va? Ciao, tesoro. Il dottore ha detto che Romanov guarirà presto. Si può sapere che cosa aveva? Per quattro anni ha preso delle pillole che lo rendevano un genio, ma poi lo hanno fatto anche invecchiare di venti in un anno e in poco tempo lo avrebbero ucciso. Allora facendo i calcoli Romanov ora dovrebbe avere circa 86 anni. Si, quelle pillole erano fantastiche, ma purtroppo avevano dei terribili effetti collaterali. Per fortuna è finita. Mi piace perché hai fatto apposta a perdere il duello. Si, sincera, di piuttosto che ti interessa la stella americana numero uno. Oh, me la regali, grazie, Lupe. Così sei stato tu a rubarla. Buongiorno, caro Zazà. Buongiorno, Lupe. Ma che sto dicendo? Ti dichiaro in arresto su, dammi le mani. Bombe. Buongiorno, che sto dicendo? Grazie a tutti.